Come aveva già annunciato su Cilento Channel, il professor Ascierto conferma il via alla sperimentazione del vaccino sull'uomo a partire dal prossimo autunno, poi occorreranno diversi mesi per arrivare a risultati certi. L'arma più importante resta la prevenzione, uso della mascherina, lavare spesso le mani, distanziamento e prudenza. Sempre in ambito sanitario, un importante riconoscimento del lavoro fatto in Regione Campania arriva dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, sezione Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche sulla Sicurezza nella Sanità. Infatti ha promosso la gestione delle fasi di approvvigionamento e distribuzione dei dispositivi di protezione individuale agli operatori sanitari impegnati nei diversi setting assistenziali dell'Asla Napoli 1 centro, segnatamente in ambito Covid-19. Intanto in Regione si amplifica sempre di più la corsa alle regionali, con De Luca che sembra concorrere con ben 18 liste, mentre Matteo Renzi, leader nazionale di Italia Viva, intervenendo alla trasmissione Agora, scioglie le riserve sulle prossime elezioni regionali in Campania. Il suo partito affiancherà i democratici per la riconferma in Campania del governatore Vincenzo De Luca.